Musica 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 E prima poi intanto, intanto e tanto, andiamo davanti un attimo che di nuovo si mette tutta all'interno Flavio Giugni, Filippo Lavaglia cerche di essere più esterno, incrocio di traiettoria il Muson lì davanti, si sfiorano Musica 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 Volevo dire che in sesta posizione si sta difendendo ala grande nonostante la frattura e il gesso e tutto, nemmeno tutta la sia possibile, intanto Lavaga si mette già dentro, bravissimo Giunchi a difendersi Sfiora il paramurti della Porsche Di Rivi Mamma mia che lotta Quinto posto In queste condizioni è da vittoria Cioè è un po' il vincitore morale Lasciatemelo dire che ci regala un spettacolo Le Mercedes